salve a tutti benvenuti a notare questa serie su MLB Dash 2022 con i nostri Washington Nationals sto registrando qualche giorno qualche giorno d'anticipo questa puntata lo sto registrando mercoledì 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 tipo un'oretta dopo l'uscita della puntata del mercoledì quindi fai capire stato ringrazio sempre tutti quanti voi per i consigli tutti i consigli mi date tutte le informazioni anche su baseball reale c'era grazie mille a tutti specialmente Roberto Rosi e Carlo Dariozzi che comunque hanno sempre consigli e informazioni su tante cose grazie mille andiamo a noi play the game ho visto aspetta però qua abbiamo maglie troppo simili abbiamo maglie simili posso cambiarle almeno le mie posso cambiarle ecco alt road alt road va bene qua siamo sempre in casa loro ad atlanta e adesso avrei strasburg rossa infortunato come starter adesso avrei strasburg avrei strasburg come starter l'ultima volta è stato un po' deludente strasburg come vabbè automatico fai tutto in automatico va bene va bene abbiamo un po' di sostituzione c'è non è non siamo proprio delle migliori condizioni perché strasburg l'ultima volta è un po' deluso e un po' di battitori buoni abbiamo dovuto lasciare la parte per stanchezza vabbè vediamo vediamo da passi allora calma era ball stronzo era ball 0 1 vabbè comunque roberto rosica ma consigliato di non avere fretta di battere quello che mi guarda in preio lasciar tirare aspettare proprio evitare questo tanto questa era alta probabilmente non si era alta non era ball però dovevo indirizzare quale per tenuto a mio pensavo fosse centrale vabbè niente vado è qua secondo eliminato niente mi sentino appena la vedo che può andare in zona di stracchio giro ma devo vedere dono manchesi è nuovo questo una riserva dono manchesi per uno però se me ne tira tutte in zona di strike no ball ok 1 1 calma calma con la calma con la calma e alla 2 1 2 il time in good ma la palla non era good vabbè ma vai a niente mamma mia adesso come la sono gestita male vabbè allora strasburg ok non incominciamo benissimo strasburg punto primo eliminato va bene va bene va bene va bene va bene allora poi è veloce lì strasburg ti prego ok strasburg ti prego va bene va bene garcia sbrigati per favore oh secondo eliminato niente strasburg il crollo questa stagione sembra vedersi diciamo la caduta di un eroe potrei chiamarla così questa puntata la caduta di un eroe uno strasburg che nella versione 2020 era tipo eh l'unica l'unica certezza quasi di questa formazione adesso intanto finisce il primo inning 0 a 0 1 almeno adesso si trova ad essere un lanciatore buono e nulla più è un po' strana sta cosa però il tempo passa comunque josh e bell josh e bell josh e bell vabbè 0 a 1 calma calma collo 1 a 1 va bene devo andare calmo devo stare calmo è questa perchè mi sembra centrale questa mi fregano ste palle mi fregano perchè mi sembra centrale invece scende e invece scende bollo 1 2 2 ok mi sembra che vada al centro e poi e poi invece mi sembra che sia una palla dritta centrale invece è una palla che scende e la va io sono sono stupido sono stupido niente niente primo eliminato lane thomas penny lane eh strike 1 avanti dai dai oi di nuovo di nuovo ci sono cascato di nuovo porca miseria mi sembra c'è mi sembra una palla dritta centrale e invece una palla moll una palla una palla curva che va in basso bollo ecco 1 2 ok calma 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 2 ok adesso c'è la ragione dai eeeh non è corta è corta è corta è corta è corta secondo eliminato secondo eliminato e niente Andrew stevenson ha la battuta già sterile addirittura calma niente niente 0-1 strike vabbè 0-2 vabbè ok calma 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 1-2 stiamo calmi stiamo stiamo molto calmi grazie batte le varie ok un altro turno di battuta dai no questo è rottura di scatola quindi devo puntare a farlo stancare anche se qua come sto arbitro probabilmente l'avrebbe chiamata strike eh quindi early calma vol ok bene forse la strike va bene 1-1 ok calma fermati lì dove sei fermati lì dove sei 2-1 ok e controllo anche ok sto registrando va bene no 2-2-1 ma porca vabbè va bene calmi stiamo molto calmi eeeh però niente è corto anche questo niente 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 secondo inning secondo inning c'è mid secondo adesso andiamo alla a lanciare secondo inning in battuta insomma in battuta per noi 1-0 per favore 2-0 strasburg ok 2-1 va bene allora qua 2-2 dai strasburg dai strasburg dai strasburg dai dai strasburg dai strasburg porca dalla per favore dalla per favore eh ahhh ahhh incredibile uno strasburg che è passato è passato da dall'essere l'unica certezza è passato dall'essere l'unica certezza a diventare quasi un punto tempo di questa squadra ehhh è un cambiamento che ha del clamoroso 0-1 slarv slarv così va beh 0-2 ok che facesse una battuta una battuta corta tipo torno tipo potrei fare una doppia e chiudere l'unica però non voglio andare a cercarla apposta perchè sembra che la fallunga è un problema secondo eliminato bene così dai bene così eh slarv va bene 0-1 ho mirato tutt'altro lato però ok slarv di nuovo 1-1 dai strasburg benissimo 1-2 dai strasburg dai che dai che piano piano ti riprendi thinker 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 va fa niente fa niente slarv qua a posto finisce anche il secondo inning 0-0 bene così bene così assolutamente eh bene così eeeh sarà dura Carter chi bomba la battuta vai Carter vai Carter sembrava buona veri early 0-1 in questo c'è la sta cosa delle palle mosce al ah e vai a fare un cu aaaah la palla era buona era buona era centrale piano piano chiane chiane a palla chiane chiane centrale centrale just late vabbè eeeh vabbè vabbè Robles da late 0-1 dai Victor ball ok 1-1 dai era 0-1 prima ok dai eeeh niente secondo eliminato e vengono tutte tipo un po' sgambe un po' così io non secondo eliminato non ho visto niente bollo non c'è dai dai ok ok qua siamo aaaah ok dai io ho messo le rette di vabbè niente niente non alla battuta o e continuano ad avere problemi ok ok 0-1 fai Strasburg sono la? e va bene benissimo 0-2 slarv va sempre 0-2 va bene di nuovo slarv no signor no non è non va bene slarv di qua però tutte queste slarv a qualche punto ci fa eh ma basta slarv giusto? ah ecco l'ha capito una veloce qua perfetto e niente non ci arriverò mai slarv di nuovo ma stiamo se fesso cosa slarv vabbè di nuovo slarv ah ah oh mi suggerisce un'altra slarv con sto battitore ah niente ti brighi per favore? oh primo eliminato dai 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 allora una veloce 0-1 no non la faccio slarv no no basta che slarv oh dai siamo tutte slarv 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 continuamente a fare slarv ti ritempa la stessa maniera prima o poi prima o poi te la leggono eh eh però adesso io adesso gli ha preso quella veloci ma che ma il ricevitore mio ha capito che bisogna un attimo variare non dargli punti di riferimento al battitore ecco oh ecco oh avanti secondo eliminato e adesso eh adesso devo uscire va beh slarv grazie arbitro questa era bolla chiamato strike il nuovo slarv il nuovo slarv 0-2 slarv di nuovo top sui piedi vabbè ti sbrighi cortesemente oh fine terzo inning sempre 0-0 andiamo avanti così partita che risulta un po' piattina ma ora alcides alcides uh è una valida la valida di alcides la valida di alcides alcides la valida di alcides attenzione uomo in prima base dai abbiamo fatto la prima valida prima reale valida che non fosse una base regalata eeeh che questo comincia a tirare eh vai donovan vai donovan vai donovan eeeh paolo 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 vabbè niente 0-2 fa niente fa niente vai donovan vai donovan vai donovan e la mmm 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 primo eliminato josh e bell josh e bell josh e bell josh e bell lo facciamo bello josh e bell non lo fai bella me l'ha fatta bella è la seconda valida l'ha fatta bella fatta beee no ho sbagliato niente l1 è per avanzare r1 mi frena l1 è per avanzare un sbaglio del bel tasso orcamite potevo essere seconda e terza base vabbè fine seconda base va benissimo l'intone l'intone pendi lane ball ok 1-0 dai 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 ok e la prende al volo no no salvo no uno eliminato certo potevi andare porca vabbè niente prima e terza base eliminato bell adesso stevenson fai niente fai niente questo voto con battle vabbè 0-1 ok 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 oh mi sembra la prospettiva mi frega ogni volta mi sembra che vota dritta invece scende porca miseria mi frega sempre mi sembra mi frega sempre mi frega sempre vai andrew vai andrew vai andrew vabbè che fa abbiamo finito abbiamo finito con sto giochino che ne dite hm eeeh 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 niente anche su punto anche su ending non facciamo punti eeeh anche su ending non facciamo punti eeeh eeeh mi fa sempre più più tesa la cosa eeeh abbiamo noi che non facciamo punti e il nostro lanciatore un tempo punto fisso di questa squadra eeeh lo è diventato un po' meno insomma ha perso un po' quello che era il suo smalto zero due e slav di qua e slav diamo di la e voi ti dica avrebbe girato la mazza comunque signor signor arbitro avrebbe comunque girato la mazza ok qua veloce qui oh a posto primo eliminato dai 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 slav qua e slavala ok zero uno la mazza è qui ma no sta steven 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 ti prego ok zero uno due segno questo a posto secondo eliminato dai dai strasburg dai strasburg dai strasburg questo rai il rai non mi innovo il cognome vabbè forse no è solo impressione mia ok zero due una veloce una veloce se mi inserisco veloce allora le do in faccia così per intimidirlo ecco fine quarto inning fine quarto inning già sta cosa che che bello vedevo che era bello spostato dalla base io già non va bene comunque partita piattina comunque devo dire da un punto di vista spettacolo piuttosto piattina due in quattro inning abbiamo fatto due valide noi e una valida loro c'è vabbè ok bollo uno zero proprio molto piattina questa no comunque sempre uno zero dai eh vabbè però porca miseria ogni volta che la batto cosa e finisce sarebbe in bocca alla prima base eh che caspita vabbè vabbè vabbò dai ki boom io ho un problema con la prospettiva è evidente ho un problema con la prospettiva a me sembrava centrale mi sembrava centralissima e invece non è pure late vabbè ok dai 0-1 bollo 1-1 dai 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 vai robles vai robles uno vabbè l'avrebbe chiamata comunque strike interno va bene dai calma calma 2-2 2 e vai a che cavano vai a fare in niente 5 inning 5 inning che non facciamo un punto 5 inning che non facciamo un punto 0-1 qua la cosa si fa si fa trubola la cosa si fa trubola e noi io prossimo slarv e allora trance bello ok comincia 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 a essere problematica prima eliminato meno male comincia a essere problematica è una cosa perché io alla fine di questo inning alla fine di questo inning onestamente comincerei a pensare a mettere a mettere qualcuno al bullpen qualcuno al bullpen ce lo metterei alla fine di questo magari non non entra subito all'inning successivo è stata ribattuta però a meno cominciare a tenerli pronti perché non si sa mai Carter ti vuoi sbrigare per favore grazie oh e niente finisce anche il quinto inning 0-0 niente proprio calma piatta questa partita va bene Luis Garcia avanti eh niente primo eliminato oh niente non non ce la facciamo non ce la facciamo non ce la facciamo non ce la facciamo perché le vedo buone ma allora calma perchè le vedo tutte buone per battere niente le vedo tutte buone per battere e invece non è così vabbè ok vai Donovan io perchè ho premuto vabbè che era strike quindi comunque lo sai too late calma e che mmm 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 va bene dai e io dovevo merda merda dovevo mandare gente al bullpen fermi 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 fatti mica di mandare gente al bullpen allora io direi warm up thompson ed harris con harris che onestamente lo manderei in campo soltanto proprio in caso di estrema necessità ecco mandare in campo giusto in caso di esterio andare su thompson come prima scelta oh bravo Donovan primo eliminato dai avrei su thompson come prima scelta onestamente però oh 0-1 dai ancora slarv vedi slarv 0-2 e a lei veloce se devo fare così allora in faccia per intimidirlo quasi guardatevi qua così bella eh eh beh mamma mia che ti è successo strato mi è stato mi è stato raccontato che nella scorsa stagione ha avuto problemi in tivi nella realtà tipo infortuni cose varie quindi non ha giocato molto e quindi magari giustamente hanno abbassato le statistiche qua nel 2022 lo capisco però c'è però c'è 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 della malinconia in tutto questo c'è c'è la caduta di un eroe c'è la caduta la caduta di un eroe davvero intanto sinker qua tiri sui piedi se ti puoi sbrigare per favore grazie oh finito il sesto inning calma piatta calma piatta calma piatta proprio josh e bell vai josh vai josh e bell josh e bell ball ok 1-0 dai max fried max fried c'è che questo in italiano si chiama massimo fritto vai nooo devo porca miseria allora calma devo stare al concetto qua ok ball ok 2-1 dai battiamolo su massimo fritto dai perchè tutte le battute oggi mi vengono a palombella ortolana coi funghi vabbè niente oh eh però è a un certo punto 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 oh vabbè niente stevenson poi stevenson stevenson mi sembrava ball vabbè calma calma stiamo calmi oh questa mi sembrava questa mi sembrava essere andando centrale porca miseria ok grazie arbitro grazie era strike era assolutamente strike ball 2-2 ok bene ok vera ball io eh vabbè io sono pocavola si sta stancando teoricamente si starebbe stancando uh presa ma va la perna bolla ok eee il terreno è sette inning non abbiamo fatto un game eee allora il titolo vinto io allora sinker 0-1 dai 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 qua e' 1-1 orca miseria sinker tiraci su sinker pill e' 1 e' strasburg ma c'è i problemi con eeeh e' dico c'è strasburg cento centrale proprio centralissima foul a posto però c'è qua in faccia penchimilino dai 3-2 fai col merge qua strasburg e' e' stanco giustamente stanco stanco e' stanco stanco 0-1 dai che ma ce la fai a regge questo di turno 1 e 2 oh doppia e' a le e' a le e' a le e' a le dai dai strato cerca di reggere questo poi ti poi ti sostituisco però cerca ho bisogno che mi reggi questo ho bisogno che mi reggi questo 0-2 va bene dai uno strike strike al merge to' sui piedi dagliela sui piedi dagliela sui piedi ole dai madre santissima settimo inning io non spero che non sia questa un'altra partita da 18 inning come quella della famosa live allora rally adams contro max fritto adams adams e' niente corto orca di quella orca di quella banana 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 e' vabbè dai e' vabbè la sbagliata la sbagliata e' una valida e' una valida abbiamo fatto la terza valida di questo di questa partita all'ottavo inning e' hanno cambiato vabbè applaude saluta il pubblico e cambia il lanciatore luke jackson oh luke jackson lancia lui chiedo scusa mi sono dimenticato di togliere la suoneria provvedo subito ok vai luke 0 1 slider una veloce ok niente 0 2 porca miseria la fa la curva però soprattutto slider calma 1 2 calma devo stare calmo 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 era ball era ball lo so come roberto rosica io hai ragione mi stare malicendo c'è che c***o ti ho detto di che però però hai ragione devo stare più calmo non devo fare smagliare di gira mazza uuuh mi fa la valida no uuuh no uuh uuuh vabbè allora proviamo iniziamo in cosa ho capito che sei cortetemente grazie ok questo è già mi sembra già un primo segnale d'allarme però lo ignoriamo 0 1 Ti noto che ho paura A fare entrare Josiah In the flying Josiah In the fire Vai Dai No 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 Voglio la challenge Dammi il challenge No 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 Dammi la challenge Dammi la La caspita di challenge Dai Ecco è arrivata prima la palla È arrivata prima la palla Le ficcatele in culo Quelle braccia pazza Ok Sinch 0-1 Dai Strasburg Dai Strasburg Dai Strasburg 0-2 Dai E all'è Ottavo inning A posto Prossimo Ci cambia Ponson Prossimo metto Ponson O no O no Vediamo Alcides 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 Mamma mia Mamma mia Primo eliminato Porca miseria Casey Donovan Fai Casey Bolli Dai 1-0 Devo avere pazienza Devo avere pazienza Fai Dono Pre Ecco La prendo al volo Perché porca Mi fe Perché non è che la prendo male Porca mia Ma c'è pure sta sfiga Josh è bella Mo fai bella tu Mo fai bella tu Però ora Calma 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 Pinta 0-2 Le tira tutte in strike Adesso con lui Eh Ma no Dai Non è possibile Eh Ora Alcides Alcides Io la faccio iniziale 0-1 Ok Primo eliminato Sto tirando tanto la corno Basta Manager Eh sono ready Eh minchia Sono ready Bullpen Thompson Vai Put in game Vai Thompson Vai Thompson Vai Thompson Grazie di tutto Steven Grazie di tutto Ma c'è la servizia È un base dedicata Cycles Nooo Ma son 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 La pune Ma son Ok A post Secondo eliminato Dai E ti Porca miteria Dai Slider Dai Che qua Stevenson È tua È tua Saramente tua E si va Di extra inning Si va di extra inning 0-0 Al nono Al nono inning 3 valide nostre E una valida dei Braves Partita più piatta di questa Credo non potesse esistere mai Newcomb Newcomb Al lancio Avanti Newcomb Battuta È corta 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 Primo inning Primo eliminato Scusate Porca Di quella Miseria Porca Di quella Miseria Niente Va bene Ok Riley Adams Era uno Calma Ball Ball Dai 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 Era un Ball Vabbè che forse Poteva anche C'era il rischio La chiamava strike Comunque Uno due Grazie Arbitro Grazie Arbitro Grazie Arbitro Due Grazie Arbitro Era 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 Stra Strike Dai Ok E E E E Ah Due Vabbè Dai Ma i miei lanciatori hanno problemi A alzare la palla C'hanno dei cali di zuccheri Per caso, problemi ad alzare la traiettoria Perché ogni volta capita Un sacco di volte che il Niro Ha una certa altezza, cioè non basso E la palla, va Mi la lancia un tipo un raso terra E io dico, ma c'è qualche problema Ma c'è Ma vi nutrite di formaggi Tanto prima ho eliminato, meno male Dico, ma vi nutrite di formaggini mio Io voglio capire Comunque La cugna, slider Di qua Tanto La situazione è delicatissima Che loro come fanno un punto hanno vinto In questo momento Almeno stando a questo inning In questo inning perlomeno Se fanno un punto hanno vinto C'è loro un punto da non fare Se non tirano fuori, un fuoricampo hanno vinto E questo Quindi è delicatissima la situazione 2-2 Jumpton Cioè Dobbiamo ricominciare con Io spero Non dobbiamo fare altri 18 inning Portezemente Tanto cielo Perché Non Perché no Perché no Perché non è possibile Perché non è possibile Ok Dai Dai Vai Fa Eh fa 1-3 3-3 Dai Dai Eh Ok Slider Vai Slider 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 Casey Tua Serenamente tua Serenamente tua Casey Serenamente Tua A posto Secondo il mio Dai 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 Slider Olè 0-1 Dai Sink Dai Oh Dio Sì 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 Decimo inning Ci siamo ancora Andiamo all'undicesimo Eh Eh E la festa continua Vai Carter Carter Key Boom Key Boom Cartes Vai Bella Oddio Oddio Non proprio Però vai Però vai Ok Avevo sbagliato di nuovo Come prima cosa Avevo sbagliato Il tasto del pallone Avevo provuto L1 LR1 Invece che R1 È una valida È in seconda base Eh Vedi che Eh Dai Problems Problems Eh No 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 Non riesco a leggerle E già ho difficoltà a leggerle tutte Ma le palle curve Sono proprio quelle che Sono quelle che E fugisco di più Vabbè Quella è al volo Ciao Eh Ciao Eh Tanti saluti Primo eliminato Eh Niente Beh dice Non è che dice Tanti strike out Le prendo Faccio belle battute Ma sono tutte corte Luis Garcia Vai Eh Oh Fa Va bene Valide Gli è scappato quella Le mani L'ha lisciata L'ha lisciata L'ha lisciata L'ha lisciata L'ha lisciata Oh C'era uno in terza base Ragazzi Siamo Un solo eliminato C'era uno in terza base Ce la facciamo a fan punto Dai Vi prego Alcides Alcides Facci sognare Alcides Facci sognare Alcides Alcides Abbiamo fatto il punto Alcides Abbiamo fatto il punto Alcides 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 2 battuta questa rapina no però se parti prima giustamente se non lo sa perché prima e terza base giustamente quello di trova la prima parte occupata dal compagno vabbè josh e bell una fai una cosa bella josh e non abbiamo fatto un punto abbiamo fatto un punto l'abbiamo uno uno il loro battito non è ancora thompson salve signor thompson salve signor thompson voi vedete qualcuno di voi ha capito la citazione scrivete nei commenti e qualcuno di voi ha accolto la città la citazione bene ho prima eliminato bravo signor thompson salve signor thompson ok ok allora dai controllo di acce comunque 0 1 sinker sinker ok 0 2 dai slider slider ma danti slider non vuol dire raso terra però scusa ortolana dai sinker prendila serenamente tua che si serenamente tua che si serenamente tua oh dai secondo un'eliminazione andiamo a casa un'eliminazione andiamo a casa dai 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 signor thompson signor thompson dai dai ok dai signor thompson 1 1 dai poi sinker signor thompson 1 2 benissimo uno strike che andiamo a casa uno strike che andiamo a casa uno strike uno strike signor thompson uno strike che si è tua che si è tua e andiamo a casa oh ortolana mamma mamma che è stata come è stata difficile e complicata ma che sono ste cose da no no non si può neanche dire però se da bimbi minchia scusate lo dico queste cose da bimbi minchia scusate sta cosa però c'è comunque comunque sei valide sei valide c'è loro allora loro bene ha fatto una in 11 inning una valida noi sei valide in 11 inning sei valide io che ma porca miseria quando si dice una partita piatta quando quando si dice calma piatta comunque signori io chiuderei con la classifica che ci vede signori messi benone ragazzi ma benone siamo siamo in questo momento sono dietro noi sono i Phillies i Braves sono caduti sono caduti parecchio i Braves dietro noi ci sono i Phillies che distanziamo noi di 5 vittorie però ecco in questo caso sono loro davvero una partita in più c'è loro una partita in meno noi abbiamo giocato 11 loro 10 quindi 5 vittorie con una partita in meno considerano il tipo 4 lo segna 4 e mezzo c'è in realtà un 4 vittorie perché se tipo fanno una sorta di media fare le partite vinte e quelle giocate penso sono una cosa del genere comunque signori è stata una faticaccia e alla prossima i 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